Benvenuti per questa nuova elaborazione in Photoshop dove vedremo come realizzare questa intrigante sfera applicata alla fotografia di paesaggio. Quindi, partendo da una normalissima fotografia di paesaggio, arriveremo, seguendo tutti i passaggi che vado a spiegare, a questo risultato. Nella descrizione sotto il video trovate un link che serve a scaricarsi quei pennelli che serviranno poi per generare la sfera e una volta scaricati e scompattati, prendendo il file letteralmente, lo possiamo rilasciare in Photoshop per poi caricarlo tra i pennelli già esistenti. Dopo aver eseguito questa elaborazione, se ci spuntiamo lo strumento pennello e da qua andiamo a scegliere, vediamo che tra i pennelli esistenti, scorrendo in basso, dovremo trovare gli ultimi caricati, che sono queste bolle, noi poi le trasformeremo in sfera. Apriamo la nostra solita finestra di livelli, menu finestra, livelli e duplichiamo il livello di sfondo. Questo per mantenerci la garanzia di poter riprendere l'immagine originale. Quindi, trascinando nella seconda icona in basso a destra, generiamo un secondo livello. Con lo strumento pennello, è un colore azzurrino, giusto perché non venga proprio bianco o trasparente, quindi cliccando sul colore di primo piano, scegliamo il colore che sarà poi quello della sfera, ok per confermare e aver selezionato la bolla che ci interessa, vediamo un pochettino, si fa fatica un po' a distinguere, però possiamo pian piano generare la dimensione che poi ci servirà per arrivare alla nostra sfera nel paesaggio. Questo movimento è da fare con un po' di attenzione perché non si riesce a capire bene che dimensione ha. Comunque, se facciamo qualche prova, ci accorgiamo della dimensione. Aggiungiamo un livello vuoto, questo per non colorare direttamente sull'immagine, e eseguiamo due o tre clic uno sopra l'altro. Questo perché sarebbe un pochino troppo leggera, questo fatto un clic soltanto, e quindi poco visibile, due o tre clic per arrivare poi all'effetto voluto, anche quattro. A questo punto abbiamo la dimensione della nostra sfera che poi dovrà essere copiata nell'immagine sottostante per generare il contenuto al suo interno. Trasciniamo dai righelli delle linee guida che ci aiuteranno poi a generare il cerchio perfetto da inserire dentro, quindi ne trasciniamo una dalla barra orizzontale e una dalla barra verticale. Questo è proprio un aiuto per poi utilizzare lo strumento di selezione elittica, che a noi servirà a rotondo, tenendo cliccato è la seconda voce, e se ci posizioniamo qua dove c'è l'incroce e iniziamo a cliccare e trascinare, avremo la certezza di arrivare a coprire esattamente la nostra porzione. Se poi qualcosa non viene perfettamente, una volta rilasciata la selezione possiamo leggermente spostarla con le freccettine, quindi a tastiera possiamo fare quello che sto facendo io, spostamenti, piccoli spostamenti. Adesso abbiamo una selezione che ci servirà per copiare sull'immagine questa porzione. Attiviamo il livello sottostante e ancora modifica, copia e modifica, incolla per avere questa parte sotto alla sfera. Ancora non è cambiato niente perché dobbiamo cercare di renderla più sferica possibile, più deformata e che ci dia la sensazione della sfera. Quindi su questo livello qui andiamo ad applicare un filtro di distorsione. Dal menu filtro, distorsione, ci spuntiamo, effetto sfera, e vediamo direttamente qua nell'anteprima quanto si modificherà. Quindi spostando questo cursore abbiamo l'accentuazione o la riduzione di questo effetto. Qui abbiamo una simulazione e possiamo provare poi a vedere che cosa succede. Ok, per confermare, ecco che ce la vediamo qua all'interno, è diventata un pochino troppo grande, quindi va ridotta con modifica, trasforma, scala, e adattiamo la sua dimensione per riportarla dentro i contenuti della nostra sfera. Quindi cerchiamo di far coincidere questi lati con quelli che sono gli estremi del cerchio. Ancora con le freccettine ci possiamo aiutare per rendere più precisa la cosa, invio per confermare, possiamo nascondere un attimo per vedere come è la differenza, quindi se ci piace possiamo accentuarla anche di più, e poi andiamo a lavorare sul secondo livello per renderlo sfocato. Quindi a questo andiamo ad applicare un filtro di sfocatura, dal menu filtro, sfocatura, controllo, sfocatura, e dosiamo la sfocatura in modo che sotto ci sia l'immagine ancora leggibile, sfocata sì, ma comprensibile, questo per capire che questa immagine sottostante è contenuta nella sfera. Se esageriamo troppo poi diventa troppo confusionato e non si capisce più. Ok, per confermare, ancora qua aggiungiamo una maschera di livello, quindi terza icona partendo da destra, e utilizzando nero e bianco come colori di primo piano ci spuntiamo la sfumatura, tenendo cliccato se avete il secchiello la troviamo qua, e qui su vediamo la sfumatura che ci servirà. Spuntiamo la prima voce per la sfumatura normale e trasciniamo qua dal basso verso l'alto un pezzettino soltanto per generare questa maschera di livello, cioè la parte nera lascerà vedere sotto, e per far sì che sia un pochettino a fuoco la prima parte e la sfocatura in progressione. Quindi possiamo fare due o tre prove per arrivare poi al punto che ci serve. Ancora non ci siamo del tutto, questo perché ci vorrebbe una ombreggiatura che aiuti a dare tridimensionalità e a comprendere meglio il nostro gioco, quindi attiviamo un nuovo livello da questa posizione, seconda icona in basso a destra, e ancora con la selezione elittica andiamo a descrivere un ovale un po' schiacciato per generare la nostra ombra, per simulare la nostra ombra della sfera, quando l'abbiamo generato riempiamo con il nero, quindi con il primo piano nero, secchiello che è sempre in questa posizione, e riempiamo, control D per deselezionare, e andiamo a sfocare questa parte qua perché così è troppo netto, quindi ancora dal menu filtro, filtro, sfocatura, controllo sfocatura, generiamo la nostra sfocatura per renderla così meno evidente, perché possa sembrare un'ombra, eventualmente possiamo influire, ok per confermare, sulla opacità, quindi renderla più trasparente, da qua vediamo, possiamo dosare questa ombreggiatura, un'ultima cosa ancora, aggiungiamo sul livello della sfera un'ombreggiatura, un FX che troviamo qua, gli effetti speciali, un'ombreggiatura interna per vedere di accentuare ulteriormente il suo effetto, quindi dal menu FX, ombra interna, vediamo direttamente sull'immagine che cosa succede, e la dosiamo con distanza, vediamo un po' che cosa succede, dimensione, attenzione a non esagerare, questo per aumentare l'effetto di sfericità, ok per confermare, qua vedo che sono andato un pochettino fuori, posso correggere, attivando il livello e con le freccettine, spostare un pochettino per aggiustare le cose, e un ultimo tocco, se vogliamo che sia ancora più evidente la nostra bolla, la nostra sfera, attivando il livello del paesaggio, secondo livello, possiamo correggere la luminosità, quindi applichiamo un livello di regolazione, terza icona al centro, clicchiamo valori tonali o livelli per le versioni più datate, e la facciamo un pochettino più scura, o più chiara, se ci può piacere, preferisco farla più scura, perché mi evidenzia di più la sfera, chiudiamo e siamo a posto. Vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link per vedere i miei contenuti, che sono tantissimi, un sacco di tutorial sia per Photoshop che per la fotografia. Grazie per l'attenzione, ci vediamo alla prossima elaborazione.